Grazie a tutti Grazie a tutti Facciamo questo torneo anche per promuovere un nuovo sindetico qui a Monte San Giusto Quindi intervenite numerose Tanto due categorie dal 97 al 99 e dal 2000 al 2002 Quindi ci divertiamo tutti insieme dai Senti formula che ha già avuto successo negli anni a Monte Granaro Ma sì ti ripeto ecco facciamo questo torneo a Monte San Giusto Roberto mi ha chiesto di collaborare e volentieri non rifiuto mai l'idea sottoforma di futsal E beh dopo come ho detto anche ad altri ragazzi tornare a Monte Granaro si farà sicuramente Cioè quello è tipo ramo ormai Ormai è un'abitudine farlo tutti l'anno E allora diamo il come dire l'arrivederci a quest'estate Ma certo un'estate piena di divertimento sia a Monte Granaro e non solo Spero di organizzare anche in altri posti che mi hanno condattato ecco tutto qui Grazie Alex Manginelli per la Futsal Tech Market Emanuele Triventozzi Prego Grazie a tutti